Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono nella stazione di Janzhou perché sto di nuovo per partire. Stamattina non ho fatto l'intro del video quindi la faccio adesso Sono andato a visitare un'altra scuola, sempre in questa città. Quindi mi sono svegliato alle 6 nella casa della vice direttrice che mi aveva ospitato Il primo classico è il città, con il città, con il città, con il città. Il città, con il città, con il città. Grazie. Il primo classico è un'ottima scuola, in un secondo noi siamo aprendi un città di città. Great. Non so come ti chiami. Sofia. Sono con Sofia. Ciao. Allora, Sofia è un'altra studentessa, è un'altra studentessa che sta qua a Janzhou. 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 E pure lei non sta in bordo e scorsa in famiglia. Lei sta in una scuola di cinesi che vanno alle superiori. Sì, praticamente. Sarebbe il primo anno di cene. Cosa si fa oggi, Sofia? Oggi si impara a fare il tè, poi studiare. Mi insegnano a fare il tè? Mi hanno detto di sì. Poi studieremo inglese e cilisa. Cosa che io amo il tè? Ci sono i treni, ci sono i dispenser dell'acqua calda. Io ogni volta avrò in treno prendo la mia acquetta calda. Si va in classe. Cosa che io amo la mia acquetta calda? Cosa, cosa, merda, AD, AD, AB. Subway, elevatore, peper, gas. Posso assustare? Mi sa qualcosa del Onglese nel mondo. Ciao, sono Marcello. Sono dall'Italia, dalla Roma. Faccio video, ho qui a Cina, per mostrarvi un po' gli italiani. E sono qui per studiare l'unico cinesi. In pratica ci hanno fatto presentare in inglese per vedere le differenze fra l'inglese in italiano e l'inglese in cinesi Prima lezione finita, dove si va? Momento autografi finito, a un certo punto una ragazza mi ha abbracciato Ora dovremmo fare una lezione di cinese solo per noi, di calligrafia, e dopo impareremo come fare il tau Questa è venuta bene, questa significa longevità Ci stiamo tenendo la prima ragazza È un luogo, questa è una parte del vino, è un luogo, è un luogo, il tuo cuore un luogo, di movimento e edito, è il suo futuro Dove le sc Hunger La procedura è più lunga di quello che mi aspettavo Oh, ora sì che sei cinese E dopo il tè si va a pranzare Sei felice Amuri? Sono felice, ovviamente Siamo che il tuo nome significa amore In Italia? Amuri Anche il passaggio in macchina Siamo ricchissimi allora Si pronuncia John Non è vero, non si va in auto C'è troppo traffico Siamo scesi in mezzo alla strada Vado in stazione Ci stiamo per salutare Bye bye Ok E ora sono qui alla stazione di Zhengzhou Si scrive Zhengzhou E per chi non l'aveste capito Perché sto leggendo i commenti sotto i video E alcuni di voi non l'hanno ancora capito Nonostante l'abbia detto un milione di volte Sono qua in Cina per un mese Mi faccio un giro per molte città della Cina Sono qua con intercultura E vado a vedere ragazzi che stanno passando un anno in Cina A Pechino ho visto Cristian, Irene Poi a Shinjassuano ho visto Alice e gli altri ragazzi Ieri ho visto Alessia, oggi ho visto Sofia E vedrò anche altri ragazzi Ovviamente non vedrò solo le scuole Vedrò anche la Cina Anche perché dopo domani vado a Shanghai per dieci giorni Perché è la Golden Week Quindi non vedrò le scuole ma farò il turista Già partito il treno Io ho sonnecchiato Mi sono anche preso una ciotta calda Fra due orette Arriva a Shinjassuano Dopo ben cinque ore di treno Arrivato a Changjou Nord E qua a Changjou dovrebbe venirmi a prendere un volontario Che è stato un anno in Italia Quindi parla un po' di italiano E mi ha inviato delle note vocali In Roma Sono con Ray che ha passato un anno in Italia a Bari Conosce i panzerotti Cioè io vado in Italia Parlo dei panzerotti La gente non sa di cosa sto parlando Lui è stato a Bari E anche a lui mancano i panzerotti Buono, buonissimo 25esimo piano Questo è la luce Ok E questa è la mia sala? Sì Seriosamente? Questo è come il migliore hotel Sì Cosa è questo? La cena era molto buona Grazie Ok Ciao ragazzi Sono Ray Piacere Ciao ciao Qual è la cosa più bella dell'Italia? Cibi È la stessa cosa che dico io della cena Ragazze Benissimo Ci stiamo per fare il tè al latte istantaneo Ci stiamo Ora mi tocca montare Ciao ciao Ci vediamo domani Ragazzi È di nuovo tardi Sto di nuovo montando Quindi vi saluto Ci vediamo domani Che farò tante belle cose Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per non perdervi i prossimi video